Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con i riflessi che il conflitto in Ucraina sta avendo anche nella nostra regione. I sindaci abruzzesi infatti sono pronti ad accogliere i profughi di guerra. Si prevede infatti l'arrivo di circa 10.000 cittadini dall'Ucraina. Gian Guido D'Alberto in qualità di presidente Anci Abruzzo annuncia piena disponibilità nel mettere a disposizione strutture recettive e hub vaccinali per controlli sanitari. Tania Bonnici Castelli. In Abruzzo risiedono attualmente 4.000 ucraini. Secondo una prima stima fatta dalla regione e dai sindaci del territorio è plausibile prevedere l'arrivo di circa 10.000 profughi di guerra. Il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto in qualità di presidente dell'Anci annuncia la piena disponibilità dei comuni all'accoglienza degli ucraini che si basa sulla reperibilità di strutture recettive e sulla pianificazione sanitaria, compresa la vaccinazione anti-Covid. Gli attuali hub vaccinali svolgeranno in questo caso una funzione essenziale. Cosa è emerso dalla riunione con Mersilio per quanto riguarda l'emergenza profughi? Ma intanto si è acquisita la consapevolezza che è necessario un coordinamento, un coordinamento unitario che deve partire dalla regione con la protezione civile, il dipartimento sanità guidato dal presidente della regione come commissario delegato e poi un'organizzazione verticale che passa dalle prefetture. È necessario avere una linea univoca, uniforme, con indicazioni chiare, una rete di comunicazione interna tra le istituzioni e di informazione ai cittadini. Fondamentale in questo momento, altrimenti rischiamo di creare un disorientamento che non ci consentirà di affrontare l'emergenza. E per quanto riguarda l'accoglienza? Sì, al momento abbiamo il sistema dei CAS gestito dalla prefettura, quindi centri di prima accoglienza e i SAI che è il sistema invece gestito dai comuni. Con i numeri attuali siamo in grado ancora di fronteggiare i cittadini, le persone che arrivano dalle popolazioni della guerra, non basteranno ovviamente, quindi con la protezione civile si è condiviso la necessità di pubblicare un avviso per individuare strutture recettive e altri spazi da mettere a disposizione di coloro che arrivano. C'è il tema sanitario che è fondamentale, quindi è necessario organizzare e gestire il flusso delle persone che arrivano e gli hub vaccinali, come proprio questo al Parco della Scienza, saranno i punti di riferimento anche e soprattutto per poter verificare e monitorare lo stato sanitario di chi arriva. Quanti profughi si prevede arrivino? Guardi, al momento i numeri sono molto variabili, però se consideriamo che in Abruzzo abbiamo 4 mila residenti di nazionalità ucraina, nel territorio abruzzese sono previste più di 10 mila persone, questa è l'ipotesi e la previsione, è chiaro che ragioniamo veramente ancora in modo molto generico e quindi bisogna attendere le prossime ore, anche per capire quali sono i termini di durata del conflitto e anche quali sarà poi la capacità di tutto il Paese, perché non è un problema ovviamente solo regionale, ma la capacità di gestire, organizzare la distribuzione sul territorio. Ieri all'Aquila il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio ha riunito l'unità di crisi per affronteggiare l'arrivo di profughi, fissate le linee guida del sistema dell'accoglienza. Intercettare i flussi di persone in fuga dall'Ucraina per gestirne al meglio e in sicurezza, l'integrazione nel territorio, la regione Abruzzo si prepara l'accoglienza dei profughi e ieri il presidente della regione Marsiglio e il responsabile regionale della protezione civile Casinghini, nominato per altro commissario delegato a tale emergenza, hanno radunato all'Aquila tutti gli attori istituzionali per fissare le linee guida del sistema di accoglienza. Tra i punti cardine l'individuazione di otto centri filtro dove indirizzare subito le persone che arrivano dall'Ucraina. Sono gli hub vaccinali già presenti e attivi a Vezzano, Sulmona, L'Aquila, Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo, con possibilità di aprire anche a Roseto. Qui si effettuerà lo screening Covid con tampone e sarà proposta la somministrazione di vaccino a una popolazione che ha un basso tasso di immunizzazione. Quindi la sistemazione è di concerto con le prefetture. Le prefetture stanno ovviamente mettendo a disposizione tutto il sistema dell'accoglienza dei profughi, dei richiedenti asilo, sia quelli gestiti direttamente dalle prefetture che quelli gestiti dai comuni. Sappiamo già che questo non sarà sufficiente perché l'afflusso è molto importante. Se la guerra andrà avanti si stimano arrivi in tutta Italia di centinaia di migliaia di persone, significa dover ospitare migliaia e migliaia, nelle ipotesi peggiori anche più di 10.000 persone in tutto l'Abruzzo. Ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza e quindi da questo punto di vista stiamo cercando di organizzare la macchina nella maniera migliore possibile per poter reggere anche questo urto. Ucraini che arrivano in Abruzzo con mezzi pubblici, rotaia o gomma o anche con viaggi organizzati, molti si ricongiungono a parenti o amici che da tempo vivono qui, è comunque fondamentale la segnalazione dell'arrivo alle autorità. Quindi diciamo con la rete delle questure, con la Polfer per esempio per le stazioni ma con le prefetture in senso generale stiamo organizzando un modello che ci permette appunto di intercettare questi flussi e guidarli anche in un processo di accoglienza. Anche perché se noi non abbiamo cognizione delle persone che arrivano spesso sono persone che vengono ospitate da parenti o amici ucraini che già sono integrati nella nostra comunità e in quel caso ovviamente non abbiamo la possibilità di indicargli qual è la strada per accedere a questa integrazione che invece è prevista. Un seminario dedicato ai temi storici che sono tornati di attualità all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Se ne discute oggi nella facoltà di lettere dell'Università di Chieti. Selenia Secondi. Nel quadro delle relazioni internazionali le rivendicazioni della Russia non hanno fondamenta? La Russia indubbiamente è un grande paese, una grande potenza e ha diritto a vedere il rispetto dei suoi interessi, delle sue aspirazioni, anche della sua tradizione passata. Però quando parliamo di impegni, assicurazioni date relativamente all'espansione della Nato non possiamo dire che in passato c'è stato nulla di questo genere. Con Gorbachev al momento della riunificazione tedesca i principali uomini politici dell'epoca effettivamente dissero parlando che le frontiere della Nato non sarebbero state, l'espressione era, non sarebbero state spostate di un pollice più ad oriente. Però né Gorbachev volle mai delle garanzie scritte e né queste comunque furono date. Quindi questo rimane su un piano semplicemente colloquiale e non ha un valore vincolante dal punto di vista giuridico. Invece un impegno che fu assunto e messo su carta fu quello del memorandum di Budapest nel 1994 quando in cambio della rinuncia da parte dell'Ucraina del suo immenso potenziale nucleare che aveva ereditato proprio dall'Unione Sovietica furono garantite da parte di Stati Uniti, Inghilterra e Russia l'indipendenza e l'integrità dell'Ucraina. Gli scenari sono indubbiamente preoccupanti. La volontà e la speranza è quella della pace. Come si costruisce la pace? La pace non è nulla di scontato, la pace va costruita e la pace si può conseguire soltanto attraverso la trattativa diplomatica, non certo con, non dirò il riarmo, ma con la fornitura di armi, che mi pare la via che la Unione Europea ha iniziato a percorrere. È una via pericolosa perché armare non tanto le forze armate residue dell'Ucraina quanto il popolo significa soltanto allungarne in qualche modo l'agonia. Questo non deve però significare un cedimento di fronte all'evidente prepotenza dell'invasione russa, che non si può assolutamente giustificare, né sotto il profilo del diritto internazionale, né sotto il profilo umano. L'unica via possibile è quella della trattativa diplomatica, del sedersi intorno ad un tavolo, comprendendo le ragioni di entrambe le parti. Cambiamo argomento adesso. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo ha portato alla luce numerosi casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Gli agenti delle compagnie di Teramo e Giulianova e delle tenenze di Nereto e Roseto degli Abruzzi, a seguito di mirate analisi di rischio elaborate dalla componente speciale delle fiamme gialle, hanno proceduto al controllo di 38 posizioni soggettive che percepivano in maniera indebita il beneficio di legge quantificato in un totale di oltre 311 mila euro complessive. Le violazioni riscontrate hanno riguardato il 97% dei controlli eseguiti nella maggioranza dei casi dovute a false dichiarazioni dei richiedenti circa il possesso all'atto di presentazione della domanda del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni. Tra i casi individuati inoltre ci sono state persone trovate a svolgere in nero attività lavorativa come camerieri o anche un imprenditore evasore fiscale che aveva ottenuto il reddito di cittadinanza mediante una falsa attestazione della propria situazione economico patrimoniale. I 38 soggetti sono stati tutti denunciati alla competente autorità giudiziaria. Nasce un modello unico in Italia, il modello Abruzzo per valorizzare l'identità comune dei vini abruzzesi ma anche quella dei singoli territori tramite le appellazioni provinciali sulle etichette. Un nuovo modello che sarà il modello del futuro con cui tutta la viticoltura abruzzese affronterà quelli che saranno i mercati per dare il giusto valore al nostro prodotto che è un prodotto mediamente superiore a quelli delle altre regioni. Col via libera del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali nasce oggi un modello unico in Italia, è il modello Abruzzo volto a valorizzare i vini del territorio. Si tratta di una svolta epocale per l'Abruzzo enologico, ha commentato l'assessore imprudente, perché sarà rafforzata l'identità dei vini regionali differenziandoli anche in base ai singoli microterritori d'Abruzzo. L'elemento più importante è che si identifichi in maniera forte la nostra regione con l'introduzione anche di una menzione superiore, quindi le nostre OP vorranno utilizzare questa menzione proprio per definire quello che potrà essere il prodotto da mettere sul mercato come OP. Poi c'è una semplificazione importante perché diventeranno da otto egittini, diventerà sostanzialmente una che sarà proprio legata alla parola Abruzzo e quindi riunire tutti quanti all'interno di questo discorso e ovviamente questa sarà un'azione di semplificazione e di azione comunicativa importante perché ci consentirà di aggredire i mercati soprattutto internazionali con una comunicazione che è un'unica regione e quindi la possibilità di valorizzare poi internamente i vari territori. La proposta accolta oggi era stata formulata nel 2019 dai produttori del consorzio tutela vini d'Abruzzo per valorizzare l'eccellenza dei prodotti. Secondo un recente report di Intesa San Paolo, l'enologia e il settore agroalimentare in generale trainano le esportazioni regionali. I vini del Montepulciano d'Abruzzo hanno raggiunto nel periodo gennaio-settembre 2021 quota 141 milioni di euro di export, 12 in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Il vino continua a crescere positivamente e questa è la base su cui abbiamo costruito in questi anni un futuro che può essere ancora decisamente migliore, soprattutto in termini di valore e di riconoscibilità dell'Abruzzo che è una piccola regione e che a livello internazionale purtroppo ancora comunque in pochi conoscono. Quindi con questo modello si creano le condizioni per un Abruzzo sempre più forte e sempre più riconoscibile. Il WWF Abruzzo ha realizzato uno spot in difesa dell'Orso Marsicano per insegnare i giusti comportamenti da attuare se lo si incontra come accaduto di recente a Roccaraso. Da oggi Duccio testimonial dell'Orso Marsicano, testimonial quindi dell'Abruzzo e di un nostro esemplare importante che è l'orgoglio di questa regione. Come hai accolto questa proposta? In maniera oltre che gioiosa, veramente non immaginavo poi di commuovermi nel momento in cui ho iniziato a fare lo spot perché veramente pensare di essere l'addetto stampa dell'Orso mi ha commosso, poter dire sì so che mi volete bene però stiamo ognuno nel proprio territorio, nel proprio habitat e poi che ne capisce l'Orso e che gliene frega dei click, dei video, del rincorrersi, dei like, non mi veniva la parola e soprattutto il cibo, lui c'è quello suo, se lo deve cacciare perché deve continuare a essere un orso e peccato che abbiamo visto forse troppi cartoni animati del parco di Yellowstone. Qui stiamo in Abruzzo e cerchiamo di rispettarlo perché è forse una delle ultime grandi risorse naturali che abbiamo. Ma cosa bisogna fare se si incontra un orso? Allora lavoriamo da diverso tempo a questo spot perché crediamo fermamente che bisogna diffondere la conoscenza sull'orso massicano e sul comportamento da tenere in caso di incontro. Vediamo ancora purtroppo anche in Abruzzo tanti comportamenti sbagliati, orsi che vengono inseguiti con le macchine, che vengono accerchiati dentro i paesi, cani non custoditi in modo corretto e cibo che viene lasciato intorno ai paesi in maniera diciamo sbagliata o forse anche volutamente. Tutto questo è sbagliato, dobbiamo far arrivare il messaggio che invece incontrare un orso è un'emozione bellissima come dice Induccio nello spot che abbiamo creato ma che dobbiamo rimanere fermi, aspettare che l'orso passi, non inseguirlo, non andare per forza alla ricerca di una foto o di un commento sui social perché questo all'orso fa male. Firmato questa mattina un protocollo d'intesa tra l'Istituto Alberghiero De Cecco e Confartigianato Imprese Pescara. Il partenariato riguarderà la formazione e l'orientamento dopo il diploma è l'alternanza scuola-lavoro. Giuseppe Dintino. Confartigianato e l'alberghiero De Cecco di Pescara insieme per la formazione degli studenti. Quest'oggi è stato firmato un protocollo d'intesa per l'avvio di un partenariato che dovrebbe traghettare i ragazzi dalla scuola al mondo del lavoro. Per i nostri ragazzi è di grande importanza avere l'opportunità di un contatto diretto con Confartigianato e con il settore degli artigiani ma anche dei professionisti per poter comprendere l'importanza di avviare anche delle start-up, possibilmente promuovendo le proprie capacità, i propri talenti, lo spirito imprenditoriale. È molto importante coprogettare insieme dei percorsi integrati di formazione tra il sistema della scuola e il mondo imprenditoriale. Il partenariato riguarderà la formazione, l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento post-diploma. Soprattutto sarà fondamentale rimettere al centro il ruolo dell'artigianato, come ci spiega il presidente di Confartigianato Imprese Pescara Di Blasio, che allarga l'invito a collaborare anche agli altri istituti professionali e industriali della città. Dobbiamo ritrasmettere il valore del saper fare, il valore della conoscenza e del saper fare manuale. Confartigianato con oggi inizia un percorso e torna nelle scuole. Oggi inizieremo qui con l'Ipsar, una scuola d'eccellenza. Vogliamo che i ragazzi capiscano cosa significa fare impresa, tutti i risvolti che ci sono dopo la scuola. Per fare questo dobbiamo entrare noi dentro le scuole e trasmettere le nostre conoscenze. L'amministrazione comunale di Teramo annuncia che i lavori per la delocalizzazione e interramento della centrale elettrica della Cona sono in fase di completamento. L'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari rassicura inoltre i residenti sulla modifica al percorso imposta da Enel che non farà mutare il progetto iniziale. La delocalizzazione e l'interramento della centrale elettrica nel quartiere Cona di Teramo costituiscono l'unico progetto finanziato dal Masterplan nel 2017, già partito e in via di completamento. Due milioni di euro anticipati dal comune di Teramo per abbattere la vecchia centrale, acquistare i terreni al di là della via Cona dove interrare i cavi per poi bonificare l'area liberata che sarà trasformata in una grande piazza per il quartiere. Oggi giustamente i cittadini vedendo i lavori che vanno sempre avanti e che ovviamente cominciano a prendere una consistenza hanno chiesto di poter avere maggiori delucidazioni. Abbiamo cercato di dare le giuste spiegazioni. Tra i finanziamenti del Masterplan l'unico finanziamento che è stato dato come stazione appaltante al Comunità è proprio la delocalizzazione della centrale Enel che è l'unica attività che è in corso e quasi in via di definizione e quasi di conclusione. Per cui ritenevamo necessario non solo informare ovviamente i cittadini della Cona, ma dall'altra parte volevamo informare tutta la città sulla situazione, sullo stato dell'arte, sulle problematiche, su le scelte che sono state prese. In questi giorni però qualche preoccupazione è stata espressa dai residenti del quartiere Cona per via di una modifica al percorso dei cavi previsto dal progetto iniziale di interramento che prevedeva l'eliminazione di tutti i tralicci. Due di questi saranno sì spostati dal luogo attuale, ma riposizionati temporaneamente sui terreni antistanti, almeno per un anno. Il tempo di ottenere, assicura l'amministrazione comunale, le definitive autorizzazioni dal Ministero della Transizione Ecologica. Nelle prossime settimane ovviamente riconvocheremo per poter dare le giuste risposte alle loro domande. Dall'altra parte c'è una problematica connessa, realizzazione del progetto che praticamente vede Terna promuovere un progetto alternativo temporaneo che potrebbe in qualche modo portare alla luce, potrebbe creare qualche piccolo disagio temporaneo, ma che comunque Terna ha già messo nero su bianco che eventuali tralicci che dovessero nascere nel periodo in cui, cioè quando si stacca la vecchia centrale e si va ad attivare la nuova centrale, rimuoverà a spese ovviamente di Terna e non con una spesa da parte dei cittadini o di chi che sia. I pensionati di Scafa insegneranno ai bambini della scuola elementare quel che erano i mestieri di una volta che ancora oggi potrebbero avere uno sbocco occupazionale, un'occasione per uno scambio intergenerazionale. A Scafa pensionati ha disposizione dei bambini per trasmettere le proprie esperienze e conoscenze e far riscoprire i mestieri di una volta, caduti nel dimenticatoio oppure radicalmente cambiati nel corso degli anni. È un progetto che coinvolge il comune, la scuola primaria, la UIL pensionati e l'ADA, l'associazione dei diritti degli anziani. In questo momento di piena globalizzazione abbiamo voluto dare una svolta nuova, diversa per portare a conoscenza di quelli che saranno i futuri operatori di lavoro che andranno a costituire la nuova generazione. Abbiamo voluto proporre quelli che erano i vecchi mestieri di una volta che oggi potrebbero essere riscoperti specialmente in un momento di difficoltà in cui la globalizzazione ci ha travolti e quindi potremmo riscoprire vecchi mestieri chiaramente attinenti al momento attuale in cui viviamo, quindi con tutti gli annessi e connessi, però potrebbero avere anche degli sviluppi occupazionali per il futuro. Il progetto si articolerà in tre fasi, una teorica in cui sarà raccontata la società di decenni passati, una pratica con le visite guidate e una riguardo lo scambio intergenerazionale tramite un'intervista che i bambini realizzeranno con i propri nonni. I bambini sono rimasti entusiasti anche perché noi abbiamo proposto come intervento non solo la parte teorica ma gli diamo anche un aspetto dinamico attraverso delle visite per fargli conoscere vecchi laboratori anche se sono dismessi ad oggi, però gli facciamo vedere queste cose dinamicamente e poi vogliamo fare anche una intervista finale che è praticamente per riportare un discorso intergenerazionale tra bambino, tra ragazzo e il nonno oppure la persona anziana che possa contribuire ad allargare le conoscenze del passato perché che l'hanno vissuto e quindi possono dargli proprio un'esperienza diretta. Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo ovviamente dalla Pescara, dopo la vittoria di Siena sabato arriva l'insidiosa trasferta in terra di Sardegna ad Olbia. I biancazzurri stanno attraversando un buon momento di forma, il nuovo modulo e lo spessore degli innesti di gennaio stanno giovando alla squadra di Gaetano Auteri. Andrea Costantini. Fiuso il Tour de Force di fine febbraio e messa in cascina la vittoria sul Siena per il Pescara è in arrivo una settimana decisiva in chiave rincorsa a terzo posto. Tre partite in sette giorni, trasferta di Olbia di sabato, scontro diretto all'Adriatico contro il Cesena di martedì e derby al Bonolis col Teramo sabato 19. I tre punti di domenica scorsa hanno lasciato immutate le distanze da chi è immediatamente davanti, Entella e Cesena, entrambi vincenti, ma hanno permesso almeno l'allungo su chi è dietro l'ancora materica. La sostanza è che la vittoria a quei sardi è d'obbligo per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalle dirette rivali. Il Pescara arriva bene all'appuntamento dello stadio Bruno Nespoli perché la squadra ha una buona condizione e da alcune gare a questa parte ha trovato una nuova fisionomia che le conferisce maggiore equilibrio. Va detto che Auteri già tra ottobre e novembre aveva ripudiato il 3-4-3 per inserire tre centrocampisti di ruolo ma ai tempi la squadra non aveva ottenuto le risposte attuali in termini di prestazioni e punti, tanto che il tecnico siciliano dopo la disfatta di Pontedera con un esonero scampato di un soffio si era convinto a tornare sui suoi passi. Ora è diverso ed è presumibile che ciò sia dovuto al diverso spessore degli interpreti. Allora con Pompetti c'erano di solito Rizzo e Memusciai, ora ci sono Derisio e Pontissu. Più dinamismo, più letture tattiche e anche più qualità. Non solo, allora era a Pompetti a giocare davanti alla difesa, ora lo fa Derisio con Pontissu e Pompetti mezziali pronte ad alzarsi e supportare l'attacco ognuno con le proprie caratteristiche. In un sistema del genere il recupero imminente di Memusciai, da ieri si allena in gruppo, è fondamentale per dare un cambio di spessore ai tre titolari e per lo stesso motivo Auteri spera a breve di ritrovare anche Dianbo. Ieri in gruppo anche i Bebi, Chiarella e delle Monache. L'infermeria si svuota, Drudi ha scontato la squalifica, un Pescara quasi al completo mette nel mirino l'Olbia che dopo una fase di appannamento ha fatto il botto e spugnando domenica scorsa il Braglia e interrompendo la striscia di 21 risultati utili consecutivi del Modena. Anche il tecnico dei Sardi, Max Canzi, ha portato dei correttivi ed ha sposato la causa della difesa a tre. A Modena i centrali erano Brignani e gli esperti Emerson e Pisano. Con due mediani solidi come La Rosa e Lella, una strutturazione utile a dare modo ai tre davanti di sprigionare il proprio talento, dal trequartista Biancu agli attaccanti Udo e Ragazzo, una coppia da 20 gol, 10 a testa, entrambi con dei trascorsi a Lanciano ai tempi della Serie B. Insomma, un avversario da prendere con le molle per il Delfino che dalla Sardegna dovrà riportare ulteriori conferme del percorso di crescita che è stato intrapreso. E andiamo adesso in Casa Teramo perché dopo lo stop di Cesena ieri è tornato ad allenarsi il Diavolo in vista dello scontro diretto delicato con l'Aquila Montevarchi di sabato pomeriggio. Gara molto importante ma allo stesso tempo bella da giocare come ci dice anche il difensore a bianco-rosso Davide Mordini. Sicuramente mette più motivazioni perché comunque farlo davanti al proprio pubblico una partita così importante sicuramente è meglio che farlo lontano, quindi fuori casa. Abbiamo dimostrato comunque che nei scontri diretti possiamo dire la nostra e questo è quello che faremo. Già oggi abbiamo lavorato bene come abbiamo fatto anche nelle scorse settimane e quindi secondo me arriviamo carichi alla partita nel modo giusto. Per quanto mi riguarda comunque ho fatto anche buone partite, poi il fatto della concorrenza è normale, è il calcio, ci sono momenti in cui si sta meglio, momenti in cui non ti dico male però che non si riesce a esprimere il proprio potenziale al massimo e lì la forza del giocatore sta nel comunque farsi trovare pronto in qualsiasi momento anche quando magari le cose non vanno al meglio. Io sono carico e pronto, se il mister mi dà la possibilità mi faccio sicuramente trovare pronto. Poi ti ripeto, fa parte del calcio, le scelte le fa il mister e nulla da dire, l'importante è sempre farsi trovare pronti. E comunque sono soddisfatto, quando sono arrivato comunque la squadra era ingranata, quando sono arrivato avevamo una posizione di classifica che non era delle migliori. Adesso ci spettano due partite importantissime dove se tutto va come deve andare, ne sentiremo parlare bene. Sicuramente è una partita che sento parecchio e soprattutto arriva in un momento cruciale dove i punti pesano e quindi sono quelle partite che uno vuole giocare ed è anche bello perché comunque è sempre facile giocare partite che contano poco. Quelle là si vedono i giocatori veri, sono partite comunque dove manca poco alla fine, decisive e è sempre bello giocare. Per esempio a Cesena secondo me l'approccio non è stato sbagliato perché se si guarda l'atteggiamento della squadra, nei primi tre minuti comunque la squadra stava giocando, non è che si è fatta schiacciare dal Cesena o una squadra impaurita. Poi siamo anche in un momento dove magari quell'episodio ti va male. Anche l'anno scorso è stato un campionato di livello, nel senso non ci sono state squadre che hanno mollato, comunque fino alla fine si lotta. Poi mi è di insegnamento in questi anni che il girone di ritorno è tutta altra cosa del girone d'andata, le squadre si rafforzano, comunque i punti iniziano a pesare, è un po' livellata la cosa e ogni anno è così, si arriva sempre alla fine dove le partite contano e quindi il livellamento del campionato me lo aspettavo perché è più o meno così tutti gli anni. Poi la quota salvezza può oscillare di uno o due punti, però è sempre lì, tra uno scontro diretto e tutto in una partita. In Serie D invece, tra poco in campo, il Castelnuovo in trasferta sul campo della Cinzia Albalonga, gara valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D, queste le formazioni ufficiali, la Cinzia Albalonga dell'ex tecnico del Matelica Tiozzo che si schiera con Santilli, Angelilli e Pompei, Santoni, Sevieri ed Esposito, Bolo ex della partita, Luciani, Alessandro, Nanni e Ferlicca, in panchina Tocci, Franzellitti, Barbarossa, Romito, Capraro Junior, Roberti, Franco e De Muzzis. Il Castelnuovo con Natale tre pali, Pulsoni e San Severino, Campestre, Emilia e Orlando, Scacco, Foglia, Bubalo, Ragni e Morelli. In panchina accanto al tecnico Guido Di Fabio, Grace, Ludovici, Cangemi, Cacciola, Madorno, Quaranta, Tondo, Colì e Sparvoli. Arbitra l'incontro Mario Picardi della sezione di Viareggio, assistenti Andrea Pacifici di Arezzo e Gianmarco Cardinali della sezione di Perugia. E con questa notizia si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. I nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di giornata.